Claudio Esposi, una doppietta nella ripresa, buona impressione nella testa contro l'Asterino, soprattutto grandi entusiasmo da parte del pubblico bianco verde? Allora, questa era la mia prima partita, la maglia dell'Avellino, è stata un'emozione importante, nonostante ero un amichevole, vedere un pubblico così, già un amichevole, è una cosa indescrivibile. In più è stato bagnato con una doppietta nell'ultima mezz'ora, quindi più che contento. Il giudizio sulla squadra e il giudizio sul gruppo? Allora, il gruppo siamo da pochi giorni assieme, ma comunque si sta formando già abbastanza bene, siamo tutti quanti bravi ragazzi che vogliono crescere e vogliono portare questa Avellino in alto. E l'impressione sulla squadra è che siamo una buona squadra, è normale che all'inizio, adesso dobbiamo ancora collaudare tanti movimenti, però benissimo, come inizio va benissimo. Claudio, le tue precedenti esperienze prima di averli lì? Allora, io ho fatto il settore giovanile nel Napoli, poi ho fatto due esperienze in Serie D con il Barletta e con la Napolis e poi sono venuto qua. Esterno-sinistro che però predilige anche partire dal versante destro. Sì, posso giocare sia a sinistra sia a destra, mi trovo in entrambe le parti, mi metterò a disposizione del mister tutto l'anno. Da per arrivare anche Biancorino, oltre a Puleo, il gruppo sta crescendo anche sotto il profilo qualitativo dell'esperienza? Eh sì, diciamo che sono due giocatori che conosciamo benissimo, hanno fatto bene qua e sicuramente faranno bene l'esperienza presente. Domenica la Coppa? La Coppa Italia ci teniamo, stiamo lavorando per questo obiettivo per domenica e quindi speriamo di fare bene perché ci teniamo a questa Coppa.